spostarsi le tiriamo, massimo oramai non ci possiamo spostare Si riaprono i microfoni di Radio Delta, a condurre c'è Giacomo e la nave, questa nave fatiscente che ormai ci portiamo dietro da tantissimo tempo, è andata a rogo. Questo è quello che succede a Lampedusa, capisci? Sempre, tutto l'inverno. Loro vogliono che veniamo a Lampedusa e ci lasciamo per clandestine, capisci? Loro vogliono questo. Io tutti devo difendere, devo salvaguardare tutti. Io non so se potrei fare qualcosa per voi, ma non mi ricordo di te. No, 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 no. No, 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 no.